ciao a tutti ragazzi siamo arrivati finalmente al blog numero 100 100 video fatti insieme non ce la saremmo mai aspettati perché noi non so se lo sapevate prima di questo canale avevamo già fatto due canali che avevamo chiuso subito e non avevamo messo tanto impegno cioè noi non ci aspettavamo che mettevamo così tanto impegno ad arrivare fino al blog numero 100 poi andiamo iniziando con tre o quattro iscritti adesso adesso lei che c'erano tantissimi però c'erano meno 30 c'erano già molto di più e poi abbiamo anche più di 30 follower anche su instagram chi l'avrebbe detto che andavamo su instagram e che facevamo questa sorpresa plus che dopo veniremo e comunque grazie a tutti per averci seguito fino adesso noi continueremo a fare video con le nostre challenge insomma non ci saremmo aspettati che ci impegnavamo così tanto insomma e perché siamo forti e non ci saremmo mai aspettati quindi grazie a tutti veramente il supporto di insomma un piccolo traguardo dai piano piano vediamo dovrebbe arrivare prima 10 poi 20 mai montarsi una testa ecco anche c'è una monta alla destra però voglio prima 10 poi 20 adesso ben 30 iscritti comunque grazie a tutti la strada è ancora lunga però abbiamo sempre idee nuove nuove cose da piano ci sono nuove serie come danni da giovane cortometrari sono erano lo stesso comunque grazie a tutti e adesso facciamo la reazione al nostro primo video ciao a tutti io sono gian con i capelli corti blog numero 100 ragazzi siamo a blog numero 100 io sono gian e lui è insieme siamo il duo pazzo che ha fatto 100 video guanandred siamo al blog numero 100 ragazzi non ci posso credere guardate i capelli ragazzi da un sacco da un sacco che non me li taglio inquadra dietro dal blog numero 3 non me li taglio guardate quanto è brutto ho visto ma dai ma sei cattivo allora tu comunque è dal blog numero 3 non me li taglio al blog numero 3 ce l'avevo così se vi ricordate e adesso veramente avete visto anche il ringraziamento basta che da 100 video che stiamo insieme comunque non avremmo mai pensato di arrivare fino al blog numero 100 ci siamo arrivati vero danni ci siamo arrivati al blog numero 100 e comunque adesso facciamo la reazione ragazzi al nostro primo video al blog numero 1 ragazzi presentazione nuovo canale duo pazzo che adesso abbiamo fatto 100 blog e non ci saremmo veramente mai aspettato mai ma ma proprio mai lontanamente ho iniziato in vestaglia e siamo arrivati a mezzemaniche con brookling abbiamo iniziato il 27 dicembre del 2020 e oggi è il 6 giugno del 2021 ragazzi veramente è una cosa che manco rigeni e comunque oggi faremo la reazione al nostro primo blog vi ricordate la ruota vi ricordate l'acqua che punge l'acqua che punge l'ago la prima battuta dobbiamo incorniciarla posto di sto quadro acqua che punge la sorpresa magari c'è qualcuno che non ha mai visto il primo video ma non credo comunque avevamo iniziato che ci avevamo uno più iscritti adesso non è che ci avevamo tantissimi però già 30 ho iniziato che ci avevo 25 anni eh sì 25 anni 5 mesi fa non è che ci 5 mesi fa avevo 25 anni adesso siamo fatti 26 eh sì il tempo passa da quelle 2 possiamo mettere un 4 no? eh giusto per eh non volevo dire l'età però me la vedi allora ecco il cellulare di mia madre che è un pochino tutto rotto perché lo fa cadere però in senso adesso facciamo la reazione al nostro primo video inquadrami attenzione 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 pubblico attenzione nostro primo video per arrivare a un flashback eravamo eh guardate quanti video abbiamo fatto ragazzi mamma mia mamma du garmene e le gerbette rotto bravo le gerbette ecco il primo ragazzi eh presentazione nuovo canale tuo pazzo 2 minuti e 34 secondi pronti? pronti? silenzio avevo i capelli migli ora silenzio no dobbiamo fare la reazione non è che possiamo star zitto ciao a tutti ragazzi ehm ora ti presento io sono Gian e lui è Dani e oggi volevamo spiegarvi l'inizio di questo nuovo canale che speriamo che andrà bene che faremo dei video insomma che mi piaceranno lui si chiamerà Dani e io mi chiamerò Gian e il nostro e noi si chiameremo duo pazzo cioè il nostro poi noi ci chiameremo duo pazzo cioè proprio poi guarda cioè lui non dice niente cioè è sempre stato così è vero all'inizio ma già il primo video cioè vabbè ero già stupidino faremo dei video del challenge oppure magari qualche volta degli scherzetti ma cosa vedi? bene Dani si si tutto bene lui sarà un po' spillino del canale anche lui già già lo intuite faremo delle challenge dove giocheremo ma cosa vuoi? scusa ma ti sembra normale che fai sti versi c'è già il primo video che fai già tutti sti versi cioè ma 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 voglio far simpatico eh vabbè allora non parlavano mai nel primo video no neanche io eravamo seri ma seri dove? ma guardati una sorella che si chiama Claudia eh e una madre ma perché? ma cosa fai? tutto bene? oh ma 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 ragazzi non l'avevo più visto un sacco di tutto questo video non dovete 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 fa ter non so più parlare eccolo la tua batuta acqua che fuggile acqua che fuggile da domani inizieremo i nostri video pazzi infatti se no perché ci chiama me è un po' pazzo e perché non è perché ci chiama me è un po' pazzo ma non dice un favore ero emozionato il primo video parlo poco e poi pian piano la ruota la ruota certo che siamo molto cambiati lo posso dire la ruota che gira disse il favore già il primo video vi ho fatto due battute e che dire ci vediamo domani e spero che mi piacerà l'idea del duo pazzo ti devo vestire ti devi vestire allora se non è piaciuto il video lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al nostro canale e non te lo ricordavo ma come se volete ma dai ma cosa che vuoi ma cosa è allora ragazzi è stato il primo video l'esperimento è normale che all'inizio uno non sa cosa dire devo dire una cosa che siamo molto cambiati adesso ho i miei capelli corti come all'inizio mi devo foscare il naso scusate vabbè comunque devo dire che siamo molto cambiati eravamo diversi il mio parere lui nei primi video era sempre in vestaglia poi mi ricordo ancora non mi ricordo se erano i primi video magari che io mi credevo un prof ti ricordi che mi credevo un prof di italiano di matematica abbiamo fatto tanti e ragazzi veramente abbiamo cambiato facevo live giusto giusto mi pare giusto questi sono quelli più recenti comunque ragazzi veramente vlog numero 100 ma adesso è arrivato il momento più importante di questo video attenzione dopo avervi ringraziato dopo avermi visto con i capelli corti dopo aver fatto la reazione a questo primo video è arrivato il momento di svelarvi la sorpresa plus allora ragazzi ragazzi uno ce l'ha scritto nei commenti che forti plus ancora è già la terza volta plus significa più se tu studi in inglese plus significa più in che senso per avere dei plurali dai vieni qua allora siamo seri perché adesso è arrivato il momento della sorpresa plus uno nei commenti ci aveva scritto che secondo lui c'entrava qualcosa con magari un nostro secondo canale ed è così se apriamo troppi canali ci trasferiamo a venezia comunque la sorpresa plus è il nostro secondo canale tuo pazzo plus il secondo canale del tuo pazzo non ci bastava essere su instagram avere un canale youtube perché suoni perché suoni è suonato è suonato no non ci bastava essere su instagram avere un canale youtube ora ce ne abbiamo ben due l'abbiamo già aperto qualche giorno fa però non c'era nessun video quindi voi non vedevate comunque abbiamo due pazzo plus il nostro nuovo secondo canale come sarà no ragazzi veramente sarà un canale molto interessante adesso non vi diciamo cosa ci sarà in questo secondo canale no 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 non ve lo diciamo perché vi diciamo soltanto magari un'anticipazione no aspetta vi diciamo soltanto di andare a cercare su youtube tuo pazzo plus cliccare sul canale e lì ci sarà la presentazione il nostro primo video del secondo canale che vi spiegheremo cosa ci sarà in questo canale non ve lo spieghiamo qui ma nel primo video del secondo canale vi spieghiamo tutto quello che ci sarà sul nostro secondo canale comunque ragazzi veramente siamo al vlog numero 100 andremo avanti fino al mille un milione vlog numero un miliardo adesso c'è un attimo un attimo eh non è intento 100 è il primo video con due zeri poi ci sarà 200 300 400 e comunque ragazzi sempre più giovani man mano che si va avanti eh sì finiremo che lui ci avrà 80 anni io 40 anni comunque se vi è piaciuto questo speciale del vlog numero 100 mettete un bel mi piace lui nel primo video non si ricordava che doveva dire condividete iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche al canale Duopazzo Plus il nostro secondo canale andate su youtube e seguiteci su instagram ci trovate come Duopazzo ciao ciao mi raccomando iscrivetevi anche su Duopazzo Plus e grazie a tutti ancora grazie a tutti